in realtà ce ne sono molti però vediamo come attori mi piacerebbe moltissimo con con eduardo leo è uno degli insomma uno degli attori che ammiro molto come registi un film di mucino in realtà sarebbe una bella esperienza e quindi sì anche saverio costanzo che è un regista con cui ho lavorato per fare uno spot della barilla è stato molto molto costruttivo comunque come percorso con lui anche per una piccola scena comunque è stata veramente ricca di emozioni e quindi più o meno questo poi